Torniamo al bellissimo viaggio in Malawi. È incredibile come girando per la città si incontrino ovunque i negozi di DAP, ovvero sia di Umana. Il via vai della gente è continuo e non è possibile fare a meno di pensare che tutto questo è reso possibile da un nostro piccolo gesto compiuto a migliaia e migliaia di chilometri di distanza. Beh, in questi negozi può entrare chiunque, naturalmente, ma esistono anche dei negozi riservati agli ambulanti che acquistano gli indumenti per rivenderli nei mercati o lungo le strade perché in Malawi, dovete saperlo, quasi tutte le attività si svolgono in strada. Pensate che in aperta campagna ho trovato un ambulante che vendeva gli indumenti di DAP alle donne dei villaggi.